Torniamo a Pavia per il nuovo centro di ricerca all'interno della Fondazione Mondino dove si applicano i modelli matematici. Sentiamo di cosa si tratta. Un centro dove si applicano studi di matematica e statistica alla ricerca clinica e scientifica. Si chiama Biodata Science Center ed è attivo presso la Fondazione Mondino di Pavia dove i ricercatori lavorano a stretto contatto con medici e neurologi. In questo momento sfruttare queste nuove tecnologie di analisi di dati molto complesse e profonde sta diventando sempre più importante e inevitabile se si vogliono produrre risultati che ci consentano anche a noi qui al Mondino di stare al passo con le realtà di ricerca più avanzate non solo a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. Quindi avendo in Università qua a Pavia, che sappiamo è una fucina di ricercatori a talenti, un gruppo che ha delle competenze così specializzate, appunto questo gruppo di statistici guidati da Silvia Figgini, ci è sembrato naturale in qualche modo avviare una collaborazione. Quindi abbiamo creato questo centro che è un centro di ricerca che ha una sede fisica all'interno del Mondino. Quindi ci sono degli spazi dedicati in cui il gruppo della professoressa Figgini interagisce con i nostri ricercatori, fornisce tutta una serie di supporti o consulenze di tipo statistico o a sua volta promuove delle attività di ricerca su tematiche particolarmente avanzate, magari cose che a un neurologo o un clinico non verrebbero in mente. Qua diciamo la cross contaminazione fra le diverse aree. O ancora, terza cosa che loro stanno facendo molto bene, ci stanno portando in una fase di informatizzazione della fase anche di raccolta dei dati clinici, che per noi era un po' un sogno e le società stanno diventando realtà grazie a loro. Lunedì 3 dicembre, proprio al Mondino, è partita anche l'International Winter School, in machine deep learning for neurological diseases, una scuola di specializzazione destinata a studenti, accademici e membri di istituzioni pubbliche interessati a incontrare ricercatori provenienti da diversi settori. Abbiamo tantissimi partecipanti, circa 70, non sono solo italiani, abbiamo anche dei ricercatori che vengono addirittura da Seul e che hanno trovato questa Winter School interessante. Tra l'altro è anche la prima Winter School legata al dottorato internazionale in Computational Mathematics and Decision Sciences dell'Università di Pavia, frutto della collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana. Durante la Winter School verranno trattati i temi di machine learning applicati nell'ambito delle malattie neurologiche, quindi l'idea è quella di avere una platea mista tra persone tecniche e persone invece legate all'ambito clinico, in modo tale da creare una collaborazione tra queste due figure, quindi una collaborazione tra l'analisi statistica dei dati e invece tutte le conoscenze legate alla parte medica.